Il lupo è un animale meraviglioso, è forse uno degli animali più belli del creato, ma secondo me tutti gli animali sono belli, sono più belli dell'essere umano e per quanto riguarda l'ecosistema sono più necessari dell'essere umano, così tutto impegnato invece a distruggere l'ecosistema. E sono inquilini più antichi di noi su questo pianeta, che è poi la nostra casa, quindi che avrebbero maggiori diritti di noi su questo pianeta, su questa casa, invece noi gli regaliamo spesso disattenzione se non quando violenza. I lupi non hanno mai invaso il nostro habitat, il nostro ambiente, invece dovete sapere che ogni anno vengono uccisi più di 300 lupi dai bracconieri. Avete mai visto i lupi venire in città per ucciderci tutti? Dovete sapere anche che il nuovo piano lupo allora prevedrebbe che questa carneficina fosse consentita e continuasse. Ora invece io credo che non sia mai legale togliere la vita a qualcuno, allora vi prego per cortesia, giù le mani dai lupi, giù le mani dalla vita di qualsiasi animale, altrimenti non resta che augurarsi che magari un giorno questi lupi vengano finalmente in città per prenderseli uno per uno quei bracconieri. E in quel caso io invece spero che loro sappiano che io sto con loro.